Il pensiero nostro è che sul percorso di cura del paziente diabetico dobbiamo assumere come confederazione ma anche come dirigenti di sanità pubblica territoriale distrettuale una funzione, abbiamo usato un termine un po' specifico ma molto significativo nella comunicazione, cioè di essere dei facilitatori di processo. Un processo che vede da una parte il medico di medicina generale, dall'altro lo specialista ambulatoriale ma anche l'ospedale, ma esiste un luogo di prossimità e questo luogo di prossimità è il distretto, è il territorio dove il paziente vive, dove si rapporta per le sue esigenze personali. In che senso bisogna essere facilitatori? Prima di tutto mettere in condizione che le nostre strutture sanitarie siano di eccellenza, che siano accoglienti, che siano di qualità, altrimenti parliamo di aria fritta. L'altro aspetto fondamentale è essere facilitatori dei processi di acquisizione di una buona tecnologia che possa essere adeguata ai tempi e anche alla modernità e anche poi un'organizzazione, sotto la voce organizzazione intendiamo il personale, specialisti dedicati, infermieri dedicati, personale proveniente anche da altri profili psicologi, dietologi, amministrativi. Questo significa avere anche uno sforzo anche di intelligenza e di creatività all'interno di un distretto dove bisogna imparare a fare anche delle economie, diciamo, di risorse umane per poterle dirottare verso le malattie che hanno una maggiore importanza. E il diabete lo è, per la vastità della patologia e per la gravità della patologia, ma lo è anche per la numerosità dei pazienti. In questo senso ci siamo espressi favorevolmente per l'integrazione, la gestione integrata, per questo ruolo di promozione della cura nel territorio e all'interno dei distretti, ma non basta. La numerosità dei pazienti prevede anche una rivisitazione del modello organizzativo dei medici di medicina generale, i quali hanno parlato che al momento si muovono intorno degli ambulatori dedicati. Ebbene, gli ambulatori dedicati non bastano più, sono delle realtà che rispondono ancora a un passato. Bisogna puntare in alto, molto più in su, applicando la norma. Alla fine bisogna credere alla riforma Balduzzi, alla creazione di queste aggregazioni complesse che sono le UCCP, all'interno delle quali anche i nostri centri diabetologici dovrebbero provare il loro momento di integrazione, perché è lì che il medico di medicina generale insieme ad altri medici di medicina generale possono formare degli ambulatori dedicati, trovare la specialistica pronta a integrarsi. Lì si ritrova l'infermiere competente, lì si ritrovano le altre risorse necessarie. Anche per ridurre la burocrazia che sta intorno a questa patologia che prevede prescrizioni relative ai presidi terapeutici e a quant'altro, anche per fare gli altri due aspetti fondamentali, cioè la prevenzione delle complicanze attraverso uno corretto stile di vita, ma anche la prevenzione primaria, ripromuendola all'interno dei percorsi strutturati, educativi che consentono al paziente, sia nella fase che precede, cioè quella dello stile di vita, quindi della prevenzione in generale, della diagnosi precoce, ma anche nella fase successiva quando deve, come dire, attuare degli stili di vita che riducono, in questo senso prevengono le complicanze che sono gravi, gravissime, della malattia diabetica. Che cosa dire infine? La campagna su questo ci sta, almeno come volontà. Tutti si sono espressi favorevolmente. Una base su cui puntare ce l'abbiamo, sia per competenze e professionalità, ma anche di sistemi informativi, che se facciamo un piccolo passo avanti, un piccolo sforzo, vanno nella direzione di integrare i nostri sistemi informativi, ma per fare questo un po' di spesa è fondamentale. Nessuno vuole altri soldi, al di fuori quello che è, come dire, il budget al nostro assegnato sul territorio, ma una rivisitazione interna delle spese, un'economia verso, come dire, le prestazioni meno appropriate per dirottarle verso queste che hanno un loro senso, significa, come dire, dare una risposta concreta alle cronicità, tra queste per prima il diabete.